Musica Chi è l'Italia? Siamo lì! E' un benvenuto a tutti i nostri ospiti Questa è la gara di Tadier Questa è la Tadier E' su un K Musica Mazzarriamo che ci sono corridori Veramente da tutto il mondo Dall'Italia naturalmente, dalla Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Russia E anche dal lontanissimo Messico E' l'ora quindi iniziate il countdown 10 Sì 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 Grazie. Grazie.